In diretta dal Kennedy Stadium di Napoli Per questa terza giornata, torneo Super Eleven targato SK Si affrontano la Renella Soccer contro H Squadre che per le partite seguenti non hanno raggiunto ancora punti in classifica Vedremo, quest'oggi il last punto era e conquisterà i primi tre punti Formazioni che ora passano a darsi il 5 a Renella Soccer In completino grigio e rosso Mentre la formazione H in completino celeste A che punto stanno in classifica? Zero punti No, era un fatto H L'albitro del match Alessandro Passarella Che ora chiama a sì i due capitani Con la R non albitro Albitro Albero casamai Ha detto scommettiamo albitro con la L Non ci pensavo Cioè le partite, tutte le partite pagate del torneo Tu e la tua squadra se si dice in tutti e due modi Sì Riprendi, aspetta, ripeti Ma accetta, riprendiamo Ma hai sentito bene come ho detto io? Sì, no, riprendi Io ho detto arbitro Se si dice in tutti e due modi Che cosa? Stai calmo, mettili lì tu Se si può dire in tutti i modi Sia arbitro che arbitro La, Carlo Sergio La sua squadra pagherà tutte le partite del torneo No, tu Ce l'ha ripresa Prego, dica Vai, prego 10 la testa, capità Non facciamo gli stupidi Sorteggiati Palla e campo Possiamo dare inizio al match Un saluto da Boteng Ciao ragazzi Primo tempo tra Ake e Arenella Socce Il risultato di 0-0 Per questi primi minuti di gioco Ora seguiremo tutto il primo tempo Grazie a tutti Grazie a tutti Oh Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.